Rapina nella villa di Saturnino De Cecco a Montesilvano dove la famiglia ieri sera ha vissuto momenti di paura in quattro armati con il volto coperto e da passamontagna sono riusciti a entrare nell'abitazione che si trova sulla zona collinare sopra Santa Filomena. I rapinatori hanno atteso che la donna e la figlia rientrassero a casa verso le ore 21, si sono fatti consegnare e aprire il cancello della villa, poi la porta d'ingresso dall'imprenditore, hanno tenuto in ostaggio la moglie e la figlia in cucina mentre Saturnino De Cecco è stato costretto ad aprire la cassaforte dalla quale sono stati prelevati orologi preziosi e una pistola che l'imprenditore deteneva regolarmente. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di un'auto, un Audi probabilmente rubata sulla quale c'era un quinto complice, pare che avessero accento dell'est.